Novena San Giuseppe La novena è molto efficace per superare i periodi di depressione, di angoscia, di rovina morale, i disastri familiari, per essere illuminati nelle scelte più difficili da prendere, per essere guariti, consolati e per chiedere qualsiasi tipo di aiuto nelle piccole o grandi difficoltà di ogni giorno. Se vogliamo ottenere dal Signore qualsiasi grazia, per prima cosa dobbiamo confessarci, quindi recitare la novena per nove giorni consecutivi e cercare di partecipare ogni giorno alla Santa Messa, ricevendo la Santa Eucaristia, oltre a ricordare pienamente le anime del Purgatorio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Oh, Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Terzo giorno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordiamo la serenità che egli ebbe nelle diverse traversie della vita. Preghiamo per tutti coloro che, nella contrarietà, si lasciano abbattere, chiedendo per tutti la forza necessaria e serenità nel dolore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto giorno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordando il suo silenzio, che gli permise di ascoltare la voce di Dio che gli parlava, indirizzandolo sempre e dovunque, facciamo silenzio interiore, pregando, perché tutti sappiano nel silenzio accogliere la parola di Dio, e conoscere la sua volontà e i suoi disegni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.